Andiamo avanti con il giornale e parliamo del piano di riorganizzazione degli uffici postali in Toscana. Il presidente della regione Enrico Rossi lancia un ultimatum alle poste per evitare il taglio di altri 59 uffici. Se l'azienda non farà marcia indietro, la regione taglierà le convenzioni economiche e chiederà ai cittadini di ritirare i propri depositi. Sentiamo in proposito Giulia Balli. A Cannesciuno è fesso, nel senso che ci avevano promesso di aprire un tavolo a febbraio, poi dopo hanno detto che si sarebbero fermati. Il presidente della regione Enrico Rossi è ancora più agguerrito dopo la decisione di poste di insistere nella chiusura di 59 uffici postali nei piccoli comuni. Oltretutto, dice, ne sono già stati chiusi un centinaio. In ballo c'è la garanzia di un servizio pubblico, chiuderli significa lasciare in stato di abbandono tanti anziani. Per questo il governatore chiede di essere convocato al più presto a Roma per un tavolo di trattativa vero. Noi siamo disponibili, dice Rossi, ma se si pensa soltanto alla redditività si va al muro contro muro. Se dobbiamo prendere atto che le poste sono un'azienda privata come tutte le altre, noi ci sconvenzioneremo su tutto quello che abbiamo in termini convenzionali. È qualcosa che vale 6 milioni e mezzo per quanto riguarda la regione. Il presidente chiede anche ai sindaci toscani di fare la stessa cosa, incontrando disponibilità. Secondo me le iniziative migliori sono quelle che facciamo tutti insieme, che facciamo tutti insieme dello stesso tipo. Quindi Anci si sta facendo carico di questa situazione insieme alla regione. Se anche questo non basterà, Rossi chiama a raccolta tutti i toscani controposte. Vieteremo i cittadini della Toscana ad essere solidali con gli anziani che vengono lasciati soli, che non potranno più ricevere la pensione, togliendo il libretto, il conto corrente e il deposito dalle poste. Aspetto la convocazione.